La Costituzione dell'SRR in questa provincia che quindi dovrebbe accorpare Dedalo con Gesa ancora purtroppo non si è attuata a causa del ritardo di uno dei comuni ma so che già da parte della Regione hanno mandato un commissario e a momenti tutto dovrebbe essere pronto per la nascita di questa nuova società. L'ATO come voi sapete ormai è in liquidazione, io dal 30 settembre non posso più compiere atti di gestione e per questo motivo è stato nominato da Palermo un commissario straordinario, il dottore Bucetti e quindi finalmente a breve possiamo mettere un punto sul lato. Oggi arriva anche l'assessore Marino a fare anche un punto sulla situazione. Questo per me è motivo di gioia perché avere l'assessore qui in questa sede chiaramente non è cosa che hanno tutti quindi oggi tutti i sindaci incontreranno l'assessore regionale il dottor Nicolo Marino e ci saranno anche i sindacati e buona parte dei lavoratori e quindi potranno confrontarsi e lui potrà spiegare direttamente a tutti in che cosa consisterà questa riforma. Assessore, quali sono i punti centrali della riforma del settore rifiuti? Beh, stiamo andando avanti. Innanzitutto abbiamo scongiurato la possibilità che gli ATO continuassero a gestire. Qualcuno pensava di poter mantenere questo sistema e che ci sarebbe stata l'ennesima proroga. Del resto finora la politica ha insegnato soltanto a parole e non nei fatti. E quindi abbiamo posto la parola fine. Però dobbiamo fare qualcosa di più nel territorio perché non possiamo essere bloccati dalla logica dell'emergenza e non vogliamo essere bloccati anche da una gestione dei privati e dal settore delle discariche. Per fare tutto questo stiamo utilizzando i poteri emergenziali che scadranno a dicembre e noi molto probabilmente che daremo la proroga, con innanzitutto tre obiettivi. Quelli di inserire nei territori dove vi è questo stradominio dei privati degli impianti pubblici. Anche il territorio di Agrigento è interessato in questa operazione. Si partirà con Gela, Messina, ma pensiamo anche a Sciacca. Stiamo anche valutando, anzi stiamo cercando di capire, questa situazione anche della discarica di Siculiana per il semplice fatto che le origini della disponibilità dei terreni con la conseguente gestione privata c'è poco chiara e quindi anche sotto questo profilo stiamo intervenendo come c'è poco chiaro anche quello che è avvenuto in occasione di una gara nel territorio di Agrigento per l'impiantistica. Noi questa gara è andata a deserta soltanto con la presentazione di un'offerta, quella della Catanzaro Costruzioni che peraltro non poteva partecipare alla gara secondo il bando, proprio perché era già titolare di scarica. Quindi ci sono delle cose che chiaramente ci hanno insospettito. Noi vogliamo togliere realmente questo predominio dei privati, non tanto perché ce l'abbiamo con i privati, anzi in molte situazioni gli imprenditori hanno dato grandi opportunità e hanno gestito bene senza dubbio meglio del pubblico, ma proprio perché è mancato un concetto importante nella politica e nella gestione soprattutto della regione e anche di questo settore rifiuti, è mancato il concetto principale cioè l'amministrazione. Oggi stiamo amministrando e stiamo amministrando in una logica nuova quella della politica istituzionale, quella della necessità di avere l'apporto di tutti quelli che credono ancora che questo territorio possa essere salvato e quindi ci poniamo nel rapporto fra il pubblico privato e una logica diversa cioè il pubblico non è il male e non deve essere il male e quindi vogliamo ricostituire il settore pubblico una gestione veramente coerente e saggia che finora non c'è stata. Noi stiamo cercando di rispettare innanzitutto il lavoro perché noi siamo ben consapevoli che non siamo un imprenditore che si muove in una logica economica, abbiamo un problema sociale a salvaguardare ci siamo resi conto però che gli altri, forse la situazione del vostro territorio non è così grave come in altre parti si è esagerato, si è esagerato innanzitutto con le assunzioni, si è esagerato con il sistema clientelare sappiamo che magari molti non ci dovevano stare però abbiamo chiaro anche il discorso che non possiamo abbandonare le famiglie e quindi noi abbiamo innanzitutto raggiunto un accordo quadro con i sindacati per salvaguardare tutte queste persone, quelle persone che non hanno diritto, non avrebbero diritto a transitare nelle società di regolamentazione che poi sapete che sono state costituite proprio in questa logica di trovare un bacino dove inserire il personale, chiaramente era limitato al personale assunto sino al dicembre 2009 se non ricordo male però sapete che poi gli atto si sono riempiti anche di altro personale e con noi lo vogliamo salvaguardare anche perché vedete è in atto una pratica da parte dei sindaci perché ancora alcuni sindaci, scusate, non tutti, non bisogna fare di ogni arbonfascio ritengono che il sistema della vecchia politica vada avanti quindi ti prometto le assunzioni, mi dai il voto, non passa più questa logica